Parte la sfida di Vivi Ardesio, il nuovo ente per il turismo del paese, delle sue frazioni e parte con l'inaugurazione di un luogo fisico dedicato al turismo. Sì, sabato mattina alle 11 inauguriamo questo sportello turistico, questo ufficio turistico. Per Ardesio è un avvenimento storico, tant'è che ho invitato anche tutti gli ex presidenti della Proloco di Ardesio, senza dimenticare che la Proloco di Ardesio ha una storia di 60 anni, sempre stato negli programmi, negli obiettivi di poter avere un ufficio turistico presidiato da una persona che permette appunto di fare promozione da una parte e accoglienza dall'altra. Finalmente siamo riusciti a realizzare questo sogno, abbiamo vinto questa scommessa grazie ovviamente alla creazione di questa nuova associazione che si chiama Vivi Ardesio e grazie alla collaborazione che abbiamo stabilito con l'amministrazione comunale che ha messo a disposizione i locali e ha dato anche un contributo importante economico e anche alla collaborazione con la parrocchia perché pure lei ha dato un contributo economico, finanziario proprio perché intendiamo operare in entrambi i settori del turismo di Ardesio su cui puntiamo, quindi il turismo religioso per la presenza importantissima per noi del nostro santuario ad Ardesio e dall'altra puntiamo sul discorso del turismo escursionistico agganciati un po' anche al traino dell'anello delle Orobie che guarda caso inizia e finisce fuori dall'ufficio turistico. Di cosa si occuperà in questa prima fase l'ufficio turistico? L'ufficio turistico si occupa di due aspetti fondamentali. Da una parte la promozione e quindi far conoscere a un pubblico più vasto rispetto a quello a cui siamo abituati oggi, utilizzando soprattutto delle nuove tecnologie in prima battuta proprio e soprattutto internet e gli altri strumenti dei social media che oggi vanno per la maggiore. Dall'altra l'accoglienza che è un punto fondamentale, quindi accogliere i turisti, accogliere gli ospiti, accogliere i pellegrini e organizzare visite guidate. Abbiamo tutta anche la parte naturalistica della Val Canale, quindi ci sono una serie di aspetti molto importanti che pensiamo di sfruttare e di valorizzare con visite guidate, creare dei pacchetti per i turisti, quindi muovere sul fronte dell'accoglienza. Voglio solo ricordare l'inaugurazione che è quindi sabato mattina alle 11. i locali sono al piede degli uffici comunali del Palazzo del Comune, quindi ci saranno il taglio del nastro, la benedizione dei locali da parte di Don Guglielmo, del nostro parroco, se rappresenta anche la banda, un piccolo rinfresco, quindi andremo a inaugurare e partire. L'ufficio turistico aprirà da lunedì di settimana prossima. Voglio anche ricordare che proprio per presentare tutta l'attività di questa nuova associazione ho organizzato un'assemblea pubblica il 21 di aprile, che è un venerdì sera alle ore 21 in sala consigliare a Dardesio, dove avremo modo effettivamente poi di parlare bene della storia che ha portato alla creazione dell'associazione, del progetto a grandi linee, perché abbiamo anche voluto guardare avanti nel tempo, e presentare poi anche il piano invece triennale, che ci vedrà impegnati nel 2017, 2018 e 2019. L'apertura dell'ufficio turistico con una persona stipendiata, pagata, pure part-time, è l'avvio di tutto questo processo. Ecco, quindi chiedo la collaborazione a tutta la cittadinanza e a tutti gli altri operatori turistici e siamo pronti anche a dare però la massima collaborazione per chi vorrà condividere il nostro progetto.